Stiamo creandolo la prima foresta che moltiplica i pesci. Come è possibile? I romani avevano capito che nella laguna di Venezia, se aumentavano la profondità dell'acqua, quell'acqua avrebbe mantenuto durante l'inverno una temperatura più alta, si sarebbe quindi raffreddata più lentamente. E questo era il segreto per trattenere i pesci all'interno della laguna e creare una produzione di cibo responsabile di lungo periodo per tutto l'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.